sfogo mattutino delle 4 di mattina allora da questo video non fregherà nessuno quindi ha uno sfogo che faccio per me stesso dico la mia su una cosa particolarmente cara e intima sulla mia persona tra un giorno il 14 esattamente faccio prima perché quel giorno sarò penso più morto che vivo anche senso più ubriaco che lucido purtroppo il giorno mi ricorda parecchie cose il 14 giugno 2008 sono 16 anni oggi 14 giugno 1024 16 anni che è morto mio padre mio padre era una grande persona aveva i suoi difetti per l'amor di dio come tutti del resto era una grande persona non meritava la fine che ha fatto vorrei adesso tutti i malati di tumore che di persone buone ovviamente poi non meritano di fare una fine del genere poi le persone cattive per me la meritano persone che fanno male di persone prossimo non pensano volte a calpestare una persona eppure ci sarebbe anche da ridire ma figuriamoci una brava persona che fa solo bene ha pensato alla tua famiglia questo e quell'altro papà avevo 16 anni che non ci sei più anche da impazzire ogni volta un pensiero c'è a me con questi questi tempi c'è a me un pensiero su di te non solo a giugno però giugno praticamente ogni volta è sempre un conto di anni che passano insomma sono andato uomo quando mi hai lasciato che ero un ragazzino da 19 anni e poi sono andato in 35 purtroppo la vita va avanti come va avanti se voglio vedere come va avanti questa vita sicuramente non sei fiero di me perché ho buttato e gettato la vita nel cesso è un altro spettacolo secondo me purtroppo ci sono anche dei tanti infami di merda come russo di merda come altri come ecco la che ex amico 1 ex amico piccolette merdo pane che hanno sfruttato la tua persona per insultarmi fammi del male che selezioni devono pagare nella loro vita mi auguro che giri come si deve anche per loro che succedono poi che perderanno un parco hanno perso lo perderanno pure loro e capiranno che significa e non è brutto perdere un padre è brutto perdere un padre perché adesso non so cosa significa per una madre io spero di scoprirlo il più tardi possibile perché penso che sia una delle cose più brutta che una persona può subire però perdere anche un padre non è una semplice passeggiata padre è un punto di ferimento importante è una figura autoritaria è il primo uomo che vedi in la tua vita come persona vera che ti avvicina non tutti i padri sono lo stesso ovviamente perché vediamo come tu con tutte le mani sono uguali che ci sono le cesse ci sono quelle buttate che lasciano i figli poi ci sono anche al stesso tempo i padri che non sono tutti uguali che se ne vanno non vogliono sapere un cazzo dei figli o che non è smazzati da loro quindi un'ora i padri che lottano i propri figli che stanno insieme i figli che poi crescono i figli degli altri questo possono condividere anche da più di tanto ma così di loro i figli perché loro non è che sono altruiste nel senso come noi detto questo però babbuccio vediamo così ti chiamavo così quando ero piccola ricordo quando vedevo un re leone con te simba 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 il piccolo simba e tu eri ufa se mi dicevi che prima o poi la vita ci sarebbe separati ma non ormai nel ricordo il ricordo ci sarà sempre il ricordo ci sarà sempre che dirti mi manchi mi manchi una pazzina ogni anno è peggio sempre però devo andare avanti spero che un giorno ti possa rivedere poi non so quando ma spero che un giorno possa rivederti